Con il passare del tempo anche il comparto degli allevatori sta vivendo sempre di più un contesto di grandi difficoltà, un'attività economica che rappresenta una tradizione secolare dell'Abruzzo e delle nostre montagne, alla quale è legata la transumanza che è stata riconosciuta patrimonio immateriale dell'UNESCO. La sopravvivenza della pastorizia è però minacciata dall'eccessiva burocrazia e dai problemi climatici, dalle riforme normative che non sempre la tutelano, ma anche delle mutate condizioni sociali e della mancanza di manodopera. Una condizione portata all'attenzione da Battista Caterini di Valle Castellana, la cui famiglia è da generazioni nella pastorizia. Innamorato del proprio lavoro e non vuole arrendersi, ma così è difficile avere un futuro. L'allevatore è un mestiere che si fa per passione, però sta venendo meno anche questo per tantissimi problemi della burocrazia e soprattutto per far quadrati conti la PAC è un sostegno al reddito che invece è stata data negli anni passati a chi non ha prodotto e non produceva niente, a discapito dei veri allevatori. La nuova PAC è peggiorata perché ha tolto dei fondi e alla fine se togli i fondi ci può anche stare, però diciamo almeno quelli che ti spettano ci devono essere erogati. In quanto quest'anno è stato un anno particolare riguardo alla siccità che le aziende, come la mia e tante altre aziende, hanno per far sopravvivere il greggio, hanno speso molto, molto di più e in questi giorni stanno arrivando i pagamenti e alcune aziende non sono rientrate perché i nostri sindacati non hanno fatto il suo dovere, il loro dovere andare a Roma al ministero a battere i pugni dicendo quale cosa sta così, non come dicono loro, perché a Roma non sanno che cos'è l'agricoltore, non sanno che cos'è una pecore e non sanno che cos'è un allevamento. Già le spese della basicità, questi soldi che non ci arrivano, non lo so se l'anno prossimo la mia azienda o le altre aziende riescono a stare in vita. Altra grande problematica riscontrata dagli elevatori è quella della comunicazione in ritardo legata alla PAC, la politica agricola comune. Certo, è su questa cosa che sono molto deluso e molto arrabbiato perché per prendere questi soldi ci hanno dato un dato il 10 marzo 2024 quanto ci doveva essere dato il primo gennaio 2023. Dopo un anno, io non lo so come mi devo comportare durante l'anno se non ho un dato a cui fare riferimento.